Cari compadriotti e cari compadriotti, una volta di più mi dò che ha presentato i miei auguri per l'anno nuovo. Quello di cinema è un'estate vagile. Per i corsi come per l'altri, i mesi scorsi hanno regato, sciaure e guai in quantità. Nel momento soleno voglio pensare che i famigli in dolore ai malati, a quelli che, assaltati dai problemi materiali, lottano per assicurare l'indomani ai suoi. Penso di noi i prigionieri che a Covid rende di noi la vita più dura da ridere da quattro muri i ghi. Ma stasera voglio di noi ringraziare quelli che hanno tutti i rischi per far vincere le forze di la vita. Personali medicali per la sicura, personali educativi. Ma di noi quelli che ossia aiutano, che nemmeno ne parlano, ma che permettono alla nostra società di continuare quantunque a campare. Quelli che intrattenono le nostre strade, quelli che puliscono i nostri paesi e le nostre città, quelli che permettono agli anziani e ai malati di fermare in casa suia. Tutti gli anonimi che usano tra l'aglio contribuiscono a mantenere il soffio di vita e all'eserciare i momenti più duri. Penso di noi all'attore culturale, che la sua attività è più che essenziale. L'uomo non può essere ristretto a un consumatore, pur di roba numerica. Vi parlerà di noi, di la situazione di la Corsica, che ha dibattuto a Grisa. L'erede che abita, l'elite Corsica non ha avuto un peso nella politica sanitaria e di Parigi, che ha deciso di tutto. Se erano stadione questa decisione, ci sarebbe già un problema di democrazia. Ma di più, abbiamo avuto un'impressione di essere in mano all'orso. Assente io i ministri brevetti e una certa ebiga e maschere inserivano a un'onda, e poi dopo ci sono portati a un cuberdorme. Ci sono stati in casa, ma si potrebbero andare a Budà per il municipale. Da i coprivoghi ai confinamenti i commercianti e altri professionali sono stati dribolati, senza che nessuno possa capire la politica insieme dell'amministrazione. La certificazione sanitaria per entrare in Corsica, buttata dalla nostra Assemblea, è stata riuscita, e poi dopo annunciata, ma senza obbligo, ciò che noi non c'è. Per i corsi, e soprattutto per i responsabili, è ora il tempo di dire il no. C'è la realtà di rispettare le regole e sceme che ci portano alla ruina. C'è la PIA e mettere in ballo le nostre decisioni. c'è la falla, che ne siamo Gabbaggi, e riflessione di la nostra Assemblea non ha il cosiddetto mondo di dopo sia più avanzato che da noi in là. In un dominio dell'innovazione sociale abbiamo affrontato la bene. per indetto, il riunito universale, che il mondo sanno ne parla di voi qualche mese. Noi ci troviamo di voi tre anni e il nostro progetto sarebbe già piegato senza un blocchino di barrigi una volta di più. non c'è tutti i soggetti siamo intravati da un'amministrazione francese assurda che ha già divastato sul proprio paese. Quest'anno non ci potremo contentare di dire baci e saluti e di continuare come è nezzo. Quest'anno i nostri auguri dovrebbero trovare la forza di diventare realtà. e per questo a chi, cari compadriotti, cari compadriotti, con fede, vi dico a baci e saluti sì, l'amore, la felicità ma di noi a volontà, a forza, a determinazione e a confidenza in ciò che noi siamo sia desiguri di noi, di noi tutti e campate felici e via Nazione e via Corsica. Grazie a tutti.